Il ritmo altisonante dei tamburi di Bucchieri e di Norcia ha chiuso in bellezza la quarta edizione della Federicina 2017. L'eccezionale performance è stata un fuori programma voluto dal presidente dell'associazione Tradumari, Claudio Maltese, e i due gruppi non si sono di certo tirati indietro. La terza ed ultima giornata della manifestazione ha avuto il via ufficialmente alle 12 con il quarto raduno regionale dei cortei storici di Sicilia. I numerosi gruppi provenienti da diverse città della regione hanno sfilato per le vie del borgo medievale, location ideale per l'evento che richiama ogni anno migliaia di persone. Turisti e visitatori si sono riversati in questi giorni nella cittadina. Tra i momenti più attesi la sfilata che si è poi ripetuta nel pomeriggio del corteo regale, il re Federico III d'Aragone, la consorte Leonora in testa e tutta la corte al seguito. La giornata ha avuto il suo apice, come ormai consuetudine, nella piazza antistante il Duomo, dove si sono ritrovati insieme tutti i gruppi. Prima il rituale saluto, poi la consegna dell'omaggio floreale alla patrona della città. Tra i tanti saluti, certamente il più toccante è quello con la compagnia Balestrieri di Norcia, che ha portato in dono un singolare dipinto a rilievo che ritrae la cattedrale di Norcia, distrutta dal sisma dei mesi scorsi. Un omaggio che ha riaperto delle ferite, riportando tutti i presenti ai drammatici momenti del terremoto che ha devastato tante località del centro Italia. L'edizione 2017 della rievocazione storica dell'entrata in città del re di Sicilia Federico III d'Aragona ha raccolto ancora una volta tanti consensi. Il villaggio medievale, allestito presso la chiesa di Sant'Antonio a Porta Spada, era gremito ad incuriosire le pietanze di un tempo, come la zuppa, il pane e i dolci, ma anche gli spettacoli equestri con il fuoco, i duelli cortesi, gli oggetti di artigianato realizzati nelle botteghe del villaggio. Questa edizione, intanto, è già stata archiviata. Gli organizzatori, ossia l'Associazione Tradumari, il Comune di Erice e la Fondazione Erice Arte, hanno già iniziato a lavorare per l'edizione 2018.